La rivoluzione industriale, ragioni ed effetti in Inghilterra. Parole chiave. Industria, attività che trasforma risorse in beni. Urbanesimo, fenomeno di trasferimento di massa verso le città. Capitalismo, sistema economico fondato sul denaro. Meccanizzazione, sostituzione di operai con macchinari con analoga funzione. Artigiano, lavoratore che segue il processo produttivo di un oggetto dall'inizio alla fine. Locomotiva, il vapore accelera i commerci grazie all'introduzione dei treni. Disse l'uomo, e sia la rivoluzione industriale. Si moltiplichino le fabbriche e si alzi il fumo delle ciminiere fino a oscurare i cieli di cenere, di carbone e di gas di petrolio. E i cieli si ennerirono. E l'uomo chiamò i cieli enneriti progresso. E l'uomo vide che il progresso era una bella cosa. E ci fu la luce e le tenebre. Joaquin Salvador Lavado Rivoluzione agricola inglese Il sistema in uso era quello dei campi aperti. Le grandi proprietà terriere della nobiltà sono senza recensioni. Dopo la mietitura da parte degli affittuari vengono usati per il pascolo libero. Nel Settecento viene introdotto il sistema dei campi chiusi. I signori recintano le proprietà terriere. Le affidano degli amministratori con una suddivisione razionale. Proibiscono il pascolo libero. Gli effetti di questo nuovo sistema agricolo. E' l'aumento della produzione. Ottimizzando l'uso dei terreni. Si incrementa la produttività. Migliorando il benessere. Ne consegue un aumento demografico. Le migliori condizioni di vita di sostentamento. Permettono l'aumento della popolazione. All'interno di un nuovo sistema detto capitalismo. Sistema economico fondato sul capitale. In cui denaro produce altro denaro. La divisione del lavoro. Nel 1776 Adam Smith inventa un metodo, l'attribuzione agli operai di singole operazioni. Scompare così l'artigiano che segue l'intero processo di un prodotto. Urbanesimo. Sorgono le prime fabbriche che richiedono operai. I contadini lasciano le campagne verso le città per lavorare nelle fabbriche. Gli operai stessi, non potendo produrre per sé, sono consumatori, aumentando la domanda di beni. L'energia del vapore. Nel 1778 James Watt abbina un motore che funziona a vapore ad una rotativa, meccanizzando il lavoro dei filatoi delle fabbriche tessili. La nuova economia. Liberalismo. Libertà di ogni individuo rispetto allo Stato su libertà di pensiero e religione. Liberismo. Libertà di ogni individuo rispetto allo Stato rispetto ai suoi diritti economici. Conservare la proprietà, fondare un'impresa, commerciare. Gli imprenditori sono persone che esercitano professionalmente un'attività economica. In questo periodo pretendono assoluta libertà da tasse, leggi e tutele dei lavoratori. Locomotiva a vapore. Nel 1829 George Stevenson applica l'energia a vapore alla locomotiva, dando forte impulso ai commerci. La prima linea ferroviaria collega l'industria tessile di Manchester al porto di Liverpool. Per approfondimenti consulta TuttoStoria, OVO Video, Panorama, WeSchool. Grazie, metti like al video e iscriviti al canale per seguire.